Il prossimo brano è una celebre canzone di Grasso Cesso, si fa apprezzare soprattutto anche per la sua quadratura di classica perfezione. Esistono moltissime versioni, ma oggi vorrei proporle al vostro ascolto dal nostro Salvatore Solinas e il complesso dei Menestrilli Cepolane di Quarto. Si tratta di Reginella e buon ascolto a Maria Paola di Sinai. Reginella e buon ascolto. Reginella e buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.